Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Cosa ci faccio io su Fortnite visto che non gioco a questo gioco da tantissimo tempo Infatti come avete letto sicuramente nel titolo di questo video non gioco a Fortnite da quasi due mesi L'ultima volta che ci ho giocato è stato il 2 dicembre E penso ve ne possiate accorgere dal fatto che prima di tutto non so in che season siamo Ero curioso di vedere come il gioco fosse cambiato, se hanno aggiunto delle cose nuove Fatemi cambiare un attimino la skin perché non voglio tenermi questa Che skin possiamo mettere? Ma io quasi quasi metterei la prima skin che ho utilizzato nel video Ovvero quella del Raven, che ve ne pare eh? Ovviamente teniamo anche il cricitino perché è troppo bello e troppo simpatico Il cricitino mi fa impazzire Allora vedo che comunque non hanno cambiato tantissimo Sfida tra cecchini, rissa squadre, rissa squadre, creativa Tempeste di ghiaccio singolo, ok Provo, andiamo a fare una semplice partita normale Dai vediamo un pochettino se me la cavo ancora dopo ben due mesi ragazzi che non gioco a questo gioco Allora sicuramente non vi potete aspettare una vittoria reale da questo video perché non credo di essere in grado di poter vincere una partita Spero di riuscire a ricordarmi almeno i tasti quindi ok per costruire così Per costruire non dovrei avere molti problemi Oh ma hanno aggiunto una doppia, un doppio muro adesso così non si baga più Oh geniale Hanno finalmente fissato quel problema che dava fastidio veramente a tutti quanti Oh mio dio hanno cambiato completamente la mappa E tutta quanta è innevata No che figata Ok pinnacoli c'è ancora Quindi hanno cambiato tutto quanto Io ho sentito che qualche settimana, qualche mese fa all'incirca Tutti quanti si lamentavano degli aerei perché dicono che siano fastidiosi, troppo forti Creano tantissimi problemi quando si è in partita Quindi forse li hanno tolti Oh mio dio Ok allora là c'è una jump pad però a noi non ci servono No 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 dai ma che è successo Ma dai ma mi prendi in giro Volevo andare in casa Ok dobbiamo cercare di andare in casa Ma gli effetti grafici sono veramente troppo alti Non si capisce nulla Ma sono già sicuro che quasi tutti si siano già lamentati di questa cosa Quindi non devo farlo pure io Allora c'è una cesta qua No non c'è alcuna cesta Dai ma perché la mia solita sfortuna Almeno dei proiettili Nulla Ovviamente ragazzi spero di non fare una figuraccia Ma ricordate che questa è la mia prima partita Quindi cercate di essere buoni Non mi massacrate tutti quanti nei commenti Se non dovessi riuscire a fare neanche un'uccisione E beh ovviamente non vi aspettate neanche una vittoria Perché non penso io riesca a fare una vittoria reale Visto che non gioco da due mesi C'è qualcuno qua C'è qualcuno qua davanti a me ragazzi Dove è andato? Dov'è? Ah è sceso Oh mio dio con un colpo? Ma hanno potenziato il fucile a pompa? Perché un tempo non uccideva con un colpo Obiettivo di questo video Riuscire a fare almeno un'uccisione Cercherò di fare nel mio meglio Per portarvi almeno un video ogni tanto Ho già fatto un video chiamato Non gioco a Fortnite da un mese Questo sarà non gioco a Fortnite da due mesi Il prossimo sarà non gioco a Fortnite da tre mesi Probabilmente Allora qua c'è una cessa me lo ricordo Quindi ok perfetto Dammi 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 Che cosa abbiamo trovato? Un Una R Ok che spero sia ancora buono O almeno In realtà quando ci giocavo io già non era buono Perché erano uscite tante altre armi migliori Come per esempio questo qua Quindi questo Vediamo se riesco a ucciderlo Oh ok Va bene non aveva nulla Quindi non è stato poi difficilissimo Oh mio dio che so Ci sono degli altri mostri? Come ad Halloween Oh là c'è qualcuno però che combatte Con questi mostri Un bel John Wick Che si è preso Un bel po' di danni Ed è morto Wow ragazzi Due uccisioni Ma chi sono eh Sono tornato un pro No no davvero Sto scherzando ragazzi Vi prendo in giro E questo cosa vuole fare? Beh mi ha ucciso Ehi calma 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 Abbiamo fatto due uccisioni È un buon inizio Forse tra un paio di partite Riusciremo anche a fare Una vittoria reale Ho perso quasi totalmente Le mie abilità di giocatore di Fortnite Non che prima fossi fortissimo Eh assolutamente Però adesso sono completamente arrugginito Dovrei mettermi a giocare un bel po' Per tornare come ero prima E sinceramente non ne ho molta voglia Ok qua c'abbiamo una cessa Che dovrei riuscire a prendere Dovrei riuscire anche a prendere l'arma Perfetto Proprio quello che volevo io E tu sei morto Vieni No Vieni qua Non ti prendere col fucile a pompa Hai capito? C'è anche un pupazzo di neve Non mi dire che è cattivo Gli devo sparare? Ok per fortuna non era cattivo Però Io non si sa mai ragazzi Non conosco tutti i nuovi aggiornamenti Quindi per quanto mi riguarda Poteva anche essere cattivo Questo pupazzo di neve Però adesso abbiamo un bel setup Mi servono soltanto Dei funghi Oppure degli scudini Qua c'era una cessa Se non mi ricordo male una volta Infatti eccola Mi servono più munizioni però Purtroppo ho pochissimi proiettili medi Bombe puzzolenti No grazie Ok potremmo anche andare a guardare Le altre case Quelle là sotto Perché non credo siano state luttate Però intanto dobbiamo trovare Assolutamente degli scudi C'è qualche scudo qua? No niente Uffa Ehi Johnny Abbiamo già fatto un'uccisione Quindi vedi non prendermi in giro Nei commenti Candy sei nabbo Sei diventato nabbo Non c'è bisogno di prendermi in giro Chiaro? Qua c'è una bella K blu Che prenderei volentieri Però c'ho piuttosto Il silenziato leggendario Quindi Credo sia meglio tenere questo Sì Mi dando lo scudo Ok allora forse conviene sparargli Venite qua Stupiti mostri Eh un chug jag Ok quindi adesso abbiamo un chug jag E loro mi rigenerano Tutto lo scudo Ogni volta che gli sparo Quindi non ha senso Bersolo adesso Me lo posso conservare per dopo Ehi non uccidere l'albero Che ti ha fatto? Ok ragazzi abbiamo 100 di scudo Più un chug jag E un medkit Abbiamo anche tantissime munizioni Non molti materiali Ma comunque non ci servono Tanti materiali Uo uo chi è che mi spara? No dai però Non adesso Uffa Non lo posso bere questo? Sta ancora là lui? No Fermo Però non si sta facendo vedere Nel frattempo c'è il mostro qua Che mi sta distruggendo tutto La smetti Dai non vale però C'è uno che mi spara E questo mi rompe tutto Si è buttato Mi sta planando contro Oh Ah ah Ambedio Sono riuscito a ucciderlo Che cosa c'è? Un mini deltaplano per terra E questo? Lo posso usare così a caso Quando voglio volare? Come vedete ragazzi La mira ce l'ho ancora Per il semplice fatto Che gioco a tanti altri videogiochi Dove devo sparare Quindi quella non la potrei perdere mai Sicuramente dropperà qualcosa Oh no Ok quello non me lo aspettavo proprio Qua c'è un lancia granate piuttosto Mi sa che conviene le lancia granate Sì sì Lo mettiamo al posto dell'smg E ci prendiamo questo Oh mio dio Non ho cambiato l'immagine dei proiettili E sta arrivando la zona Ecco Perfetto Adesso il deltaplano mi sarebbe servito Sicuramente Wow Ho perso molta più vita di quel che credevo Pensavo di perderne tipo un 15 20 Invece Oh mio dio Ho perso quasi 40 di vita Se non altro ragazzi Abbiamo fatto ben due uccisioni E restano soltanto 22 persone in vita C'è qualcuno che spara Ah sta sparando i mostri Eccolo ecco li Li vedo li vedo li vedo No 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 Questi mostri no Ok uno l'ho ucciso Ammazziamo anche l'altro L'ho ucciso Sì li ho uccisi tutti Fantastico No No Ma porca miseria No Oh mio dio Pensavo di avere ancora le SMG In realtà avevo Il Lo spara granate Ragazzi 4 uccisioni E ben 54 mostri uccisi Io direi che sta andando bene Questa partita Per essere la mia Quarta partita In 3 mesi Non mi dispiace Il tema neve Anzi è abbastanza carino 11 persone in vita Ragazzi se vinco questa partita Io impazzisco Vabbè tanto non vinco È inutile che dico se vinco Non penso proprio di riuscire a vincere Sono troppo nabbo per vincere questa partita E ho le mani fin troppo fredde al momento Ok proprio quello che volevo io Perfetto Adesso abbiamo un lanciarazzi Sì ma adesso non vedo nulla Ora non si vede più niente La nebbia è troppo fitta Tutti sicuramente sono a palmetto paradisiaco Quindi se voglio un po' di azione Devo andare là La volete l'azione? Eh? Proviamo a ucciderlo? Andiamo su Io non campero mica Sta sparando ai mostri Ok l'ho preso due volte L'ho preso altre due volte A poca vita Ho preso un'altra volta Un'altra Ottimo Cinque uccisioni Signore e signori Ok dobbiamo adesso correre di nuovo Nella safe Perché siamo completamente fuori safe Però posso utilizzare questo coso qua Che mi porterà lassù in montagna Giusto? Sì È una persona quella? No Sembrerebbe quasi che tutti si stiano nascondendo Ok no Non si sta nascondendo nessuno Qualcuno mi ha sparato Non so chi e non so da dove Ok non mi piace assolutamente questo posto ragazzi E non ho molti materiali da usare Mi sa che c'è qualcuno qua dentro Oddio c'è qualcuno Ok siamo riusciti a ucciderlo Mettiamo subito un campfire qua per terra E metto anche un altro qua Ok perfetto proprio quello che mi serviva Allora qua ci abbiamo Uh c'è uno sniper leggendario Vedo un nemico E basta mi lasciate stare Questa partita sta andando veramente molto molto bene Non me lo sarei mai immaginato sinceramente Oddio potrebbe anche essere lassù No è fuori safe ne dubito Non vedo niente ragazzi Non si vede nulla Ok uno è lassù sicuramente Ma è forte questo sniper Io spero di sì Perché l'ho scambiato con un lanciarazzi Oddio mi ero dimenticato Che però ora possono volarmi addosso col deltaplano Ok Ok non sono assolutamente in ansia No 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 Ragazzi ricordate che non gioco a questo gioco da più di due mesi E sono arrivato in qualche modo in finale Qualcuno si sta buttando qua Questo è il mio momento No c'è qualcun altro dietro di lui Quindi li lascio combattere tra di loro volendo L'ha capito che lo sto guardando là dietro Io c'ho l'high ground Ora spero che quello però non mi venga ad attaccare a me Ah se soltanto avessi avuto adesso il lanciarazzi No non così Ragazzi posso morire adesso in qualsiasi momento Mi sa che mi conviene scappare da qua No Ha stato un rift to go Ok sta cercando in qualche modo di arrivare in safe Da dove? Da qua Nooo Oh mio dio Ma come ha fatto? Ma avevo 150 e passa di vita Ho sbaglio? Ragazzi sono riuscito a fare ben 6 uccisioni E arrivare in top 3 Quindi sono molto contento del mio risultato Vi devo dire la verità Mi raccomando lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video dal vostro candy tutto E noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video Ciao